Ciao! Vi spiego che cos'è My Business, servizio gratis di Google. Oramai tutti sanno che il digitale nel web internet ha trasformato la nostra vita di tutti i giorni. Adesso vi spiego l'elemento chiave del web che riguarda la tua attività, per ottenere visibilità. Immagina di essere un meccanico, sei cresciuto principalmente grazie al passaparola. Non hai mai avuto esperienza sul web. La presenza online promuoverà la tua attività. In che modo? Il principale vantaggio è sfruttare la ricerca, quindi avere una presenza digitale. Google ha messo a disposizione automaticamente e gratis My Business, la scheda della tua attività, dove compilata correttamente avrai la finestra digitale web con tutte le informazioni necessarie. I futuri clienti ti cercheranno e ti troveranno a seconda delle loro necessità. Immaginiamo che qualcuno esegua una ricerca di un'attività come la tua e che compaia nei risultati. Il cliente può scoprire tantissime cose su di te e ricorda che più la scheda è compilata correttamente, con foto, slogan, video, più riuscirai ad avere nuovi clienti e ad aumentare il tuo giro di affari. Questa scheda è la base per essere presenti nel modo più performante e togliere ai tuoi competitor della tua area di appartenenza tutti i futuri clienti che vanno alla ricerca del tuo settore specifico. Lo sai che Google ha già inserito la tua attività con una scheda My Business precompilata ed è già in rete automaticamente senza nessun controllo? Sai se è tutto corretto? Ne hai preso la proprietà? Sì sì, è stata compilata correttamente la tua identità? Ti cercano con Google Maps? Il rating è al massimo? Hai uno slogan di 100 sillabe? Hai il sito? Se non ce l'hai, lo facciamo noi, senza costi aggiuntivi. Orari, apertura e chiusura? Domande e risposte dei clienti? Posto volantini 300 sillabe cliccabili? Prenota? Registrazione? Acquista? Salva? Vendi? Offerti e-commerce? Scattura clienti? Report giornalieri? Indice flussi clienti giornalieri? Tutto questo servizio è gratis da Google. La tua attività sarà presente per sempre e subirà solo delle migliorie nel corso del tempo da fare periodicamente. La nostra società è specializzata per compilare la scheda con tutte le informazioni da voi consegnate, foto, video, sito web, affinché siate al top e quindi visibili istantaneamente. La nostra società chiede per il servizio della compilazione performante 290 euro una tantum, comprese le variazioni che avverranno nel futuro. Approfittane, è di tuo vantaggio. Non lasciarti sfuggire i futuri clienti, i tuoi competitor si stanno organizzando. Chiama e chiedi qual è la tua scheda My Business che Google ti ha già messo a disposizione e vedrai se hai bisogno di un intervento immediato. I clienti di tua appartenenza ti stanno cercando, non riescono a trovarti e tu non lo sai. Chiama il numero verde 800 980 258 oppure compila il forum a destra. Ti chiameremo noi. Ciao!